quindi come... come ti sembra? perfetto! è una off note del 60 con questo è un sistema perfezionale del 57, 55, giudiranno сторону for a life's insane i ain't paid the cards when I pass by e people say Just another guy On the lost highway Just a deck of cars And a jug of wine A woman's life Just make a life like mine On the day we made Our ministry Started rolling down On the lost highway 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 On the lost highway